Anche quest'anno il meccanismo dell'otto per mille porterà ingenti risorse nelle casse della Chiesa Cattolica. Come lei saprà in termini proporzionali rispetto al totale delle opzioni espresse, anche le risorse di quei contribuenti che non esprimono una decisione vanno comunque alla Chiesa. Qualcuno dice che la Chiesa dovrebbe autofinanziarsi e che l'otto per mille andrebbe abolito. Lei cosa ne pensa? È d'accordo con questa affermazione oppure no? No, sono d'accordo. Perché? Perché per la Chiesa, la Chiesa ne ha già abbastanza di soldi. Io dico che l'otto per mille bisogna darlo a qualcun altro. Per esempio? Io lo do alla mia società di invalidi, invalidi sul lavoro, e il mio otto per mille lo lascio a loro. La Chiesa ne ha di soldi e si può autofinanziare da solo. Cioè, il discorso è quello, come ha detto lei, se uno è intenzionato a darlo, va bene anche darlo alla Chiesa. Uno che è intenzionato. Però chi non è intenzionato non è giusto che il suo otto per mille vada, perché non lo esprime in un altro modo. Visto e considerato che si conosce, che ciò che non viene dichiarato va destinato ugualmente alla Chiesa, non vedo perché non debba essere fatto. Io tranquillamente lo donerei, l'otto per mille alla Chiesa, però è risaputo che ciò che non viene dichiarato lo sa tutta l'Italia, lei lo sa, che giovani lo sapranno anche le persone più grandi. Fino a quando è questa la legge, per me va bene così. Chi dice che la Chiesa dovrebbe autofinanziarsi? In che modo? C'è qualcuno che dice che le donazioni spontanee dei fedeli dovrebbero bastare, dovrebbero essere sufficienti? Le donazioni spontanee dovrebbero essere sufficienti per cosa? Per mantenere un bellissimo duomo nella Chiesa di San Michele. Chi dice invece che la Chiesa ha già fin troppi soldi, cosa ne pensi? Si vede che se li merita. Io sono per l'otto per mille, però se c'è qualcuno che non vuole dare, era giusto che venisse il suo contributo, dato a chi è giusto darlo. Però lei è favorevole perché? Io sono favorevole perché sono cristiano cattolico e quindi sono favorevole a che la Chiesa ridistribuisca secondo un modo che hanno loro. Mi auguro che sia giusto perché non conosco bene i processi, però sono favorevole. Diciamo che sono favorevole e mi auguro che loro lo facciano proprio in funzione del fatto che poi ci sia anche un ritorno in termini di carità, perché il vero processo è quello della carità che deve avere un ritorno nella società in un qualche modo. Grazie. Grazie. Grazie.